Ieri sera ero fuori con amici a fare aperitivo e conosciamo questo ragazzo veneto che ci racconta questa storia. Un giorno la mamma gli legge i messaggi sul cellulare e scopre che a suo figlio gli piace tanto il manego, cioè invece di piacergli le ragazze, gli piacciono i ragazzi. La mamma ne parla con il papà e questi dicono al figlio di andarsene di casa e di non farsi più sentire. Cinque mesi che non si vedono e non si sentono. E ora io sono qua che giro il mondo e non perdo occasione per dire che il Veneto è un popolo stupendo e accogliente. Accogliente un posto dove si ripudia la cosa più preziosa, il figlio, per il casso. Vai! Ora parlo a voi due, mamma e papà di questo ragazzo che con la birra in mano e gli occhi lucidi mi ha raccontato questa brutta storia. Chiamatelo subito per piacere e ditegli che gli volete bene perché è gay il sacramento, non è astemio.